Allora, ragazzi, è l'ora del tacchino! Fantastico! Sembra squisito! Guarda che roba! È un capolavoro! Grazie mille! Sembra ottimo, Greg! Grazie, Jack. E per affettarlo, ho pensato di usare il bellissimo coltello da caccia irlandese decorato con lo stemma della famiglia Burns che Jack ci ha così premurosamente portato dalla sua ancestrale terranatia. Guardate, ragazzi! Bellissimo! Guardate un po'. Vedete questo stemma? Veniva usato dai vostri antenati molto tempo fa, ai vecchi vecchi tempi, per identificare la famiglia. Papà, posso chiederti una cosa? Assolutamente! Adoro la storia. L'assorbe come una spugna. Una ragazza fa popò dalla vagina? No, non la fa. Sono un po' giovani per la genealogia. Sì, siamo un po' fuori argomento. Jack? Cidio, so tu, Greg! Sei tu l'affettatecchino ora. Grazie, sono onorato. Allora, affettiamo la bestia arrosto. Vediamo, credo che comincerò dal lato destro. Bello tenero. Allora, Greg, quanto ti piace il tuo nuovo lavoro? Ecco, le dirò, Dina. Un sacco di responsabilità sul gruppone. Ma è proprio questo che mi piace. Insomma, l'opportunità di gestire un intero reparto. In un certo senso è che... Ah! Tizio! Merda! Tesoro, prendi forte! Non è niente. Non gli potevi prendere un animale a sangue caldo. Premi! Mamma! Previ! Mamma! Calmati, calmati, tesoro. Pronto? Papà ti ha fatto male. Ehi, Kevin! Eh, Kevin, ragazzi! Cosa? È passata. Sei a Chicago? Ehi, a Chicago!